Uembruttiti, in qualità di scerpa della creatività milanese, oggi vi voglio raccontare di un bel progettino del carletto di Corso Coma. Quindi, poche parole, tante fatture. Ciao, sono Carlo Menelli, proprietario di Wi-Fi di Corso Coma Milano. Wi-Fi che cos'è? Wi-Fi è il primo luogo fisico nato in Italia per aiutare le persone a superare i traumi dovuti a un utilizzo non consapevole di internet. Ciao, sono il Marco. Viene da noi chi crede a tutto, ma posso dire che c'è chi piano piano ne sta uscendo. Finalmente ho capito che quel ragazzo che mi scriveva dalla Nigeria chiedendomi dei soldi via mail ogni mese stava solo cercando di truffarmi. Questo è molto positivo. Sì, fortuna che in quei mesi difficili mi è stata vicino Evelina, una modella ucraina ricchissima di biancheria intima che ho conosciuto su Facebook. Ci amiamo, ci amiamo, anche se non ci siamo mai visti perché c'è la webcam che non funziona. Però io adesso le ho mandato dei soldi, così la ripara e vediamo. Ci occupiamo di tutto, dalle fake news, alle teorie cospirazioniste, al phishing. Abbiamo anche un seminario numero chiuso dedicato alle truffe via mail che si intitola Enlarge your penis. Non ti allunga il pene per davvero. Però siamo tutti d'accordo che il vaccino per il covid serve per amplificare il 5G. Beh, chiaro. Ci sono come antenne questi bastardi. Sì, antenne! Come sta andando? Certo è un percorso lungo, pieno di ostacoli, ma qui alla Wi-Fi adottiamo la politica soddisfatti o rimborsati. Scusa, scusa, ma c'è uno che dice che la Terra non è piatta e sta per partire un'alissa che faccio sedo? Procedi. Complimenti Marco, hai superato il corso. Grazie dottore. Prima di uscire però vorrei darti due cose che ti possono aiutare a non ricadere più nei tuoi vecchi errori. Sì, certo. Questo è un mappamondo, per ricordarti sempre che la Terra è... 90% piena d'acqua. Sì. E poi, l'immancabile saggio. Se la webcam non funziona, fatti due domande for dummies. No, ma grazie dottore. E per evitare ogni ricaduta, ti consiglio un abbonamento a NordVPN. Per navigare in internet in totale privacy e sicurezza. Con questo proteggi tutti i tuoi dispositivi. Hai connessione internet VPN veloce e stabile ovunque tu sia. Ho capito. Questo è un raggiro! Lei ha fatto questo corso soltanto per vendermi un abbonamento a NordVPN. Bravo Marco. Hai superato anche il test finale. Attenzione, NordVPN è la migliore VPN. Non ha controindicazioni e protegge tutti. Anche chi ha intenzione di cliccare un banner con scritto Enlarge Your Penis. Scusi dottore, non è che avrebbe un abbonamento a NordVPN anche per Evelina? Sa la modelliera di tira che c'ha la webcam che non funziona? Portatelo via. Come portatelo via? Ecco a aged 그러ca! Isto ho mai visto! Ciao a tutti! Ciao a tutti! An accomplisharti ilён know? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Andric 9690! Leo P習ke! Salpeوا rascch Noah? Cheio! leap! bello! Le ro master!